buongiorno e benvenuti nel mio canale oggi vediamo un modo molto semplice di come puntare correttamente l'antenna del digitale terrestre ovviamente non basta puntare l'antenna maniera giusta ma ci vuole anche un amplificatore d'antenna da metterlo sul tubo dell'antenna stessa e poi probabilmente un alimentatore invece da collegarlo prima dell'uscita dell'antenna da inserire nel televisore o nel decoder se non avete un televisore che ha il decoder incorporato ma vediamo come procedere per calcolare esattamente il puntamento di un'antenna del digitale terrestre innanzitutto bisogna andare sul sito otg tv o tg tv si digita si va su invio ecco qua liste otg ci si clicca sopra queste sono tutte le liste otg di tutte le regioni italiane chiaramente uno sceglie la propria regione io scelgo magari la toscana quindi vado qua e poi qui scelgo la provincia c'è la provincia di firenze e magari il comune poi il comune scelgo il comune di fiesole non abito proprio lì ma comunque non molto lontano c'è fiesole e adesso vado su vai e vedo tutti i ripetitori che sono compatibili con la mia posizione la posizione della mia casa vado su vai noi sono tutti i ripetitori montesecchieta basciano montesecchieta ancora basciano eccetera eccetera qui sono tutti i ripetitori ora come scegliere il ripetitori migliori chiaramente uno se abita in un certo luogo questi luoghi che sono prossimi alla preparazione di conosce quindi sa più o meno dove si trovano ma se non lo sapesse per esempio se uno non riesce a vedere canale 5 cosa fa fa su ctrl f qui digita canale 5 passo invio ecco qua il segnale del canale 5 viene trasmesso da mediaset 3 sul monte secchieta ecco qua c'è anche l'opzione basciano come vedete poniamo che noi si voglia utilizzare il monte secchieta copiamo la longitudine e la latitudine di questo ripetitore copia si incolla in un file di testo adesso dobbiamo modificare l'impostazione si deve mettere il punto a posto della virgola punto e il punto a posto della virgola poi si copia qua si cancella perché bisogna mettere prima l'attitudine e poi la longitudine farlo su ctrl v e la incollo bisogna avere questa sintassi di inserimento delle coordinate prima la latitudine con il punto dopo i decimali e qui poi la longitudine con il punto e poi i decimali detto questo si va su google maps qui si può inserire il nostro indirizzo praticamente nel mio caso io vado direttamente su fiesole per esempio e trovo chiaramente la mia abitazione per essere precisi digito magari il mio indirizzo la trovo subito ma vado per esempio faccio lo zoom con la rotellina del mouse diciamo che io abito qua io devo individuare la mia casa non è molto difficile perché qui ci sono tutte le vie come vedete uno individua il proprio della propria posizione la propria casa ci clicca sopra per creare un segna posto diciamo che io abito qui ci clicco sopra e crea un segna posto qui c'è il segna posto a questo punto io ho imposto ci clicco sopra con il tasto del mouse su questo segna posto e vado su misura distanza a questo punto io incollo qua le coordinate del ripetitore che sono queste copio con questa sintassi come vedete prima longitudine poi prima latitudine poi longitudine con il punto tra i numeri interi tra i gradi e i decimali vado su copia prima però devo essere andato su misura distanza ctrl v e cerco il ripetitore questo ripetitore ma io adesso vado con lo zoom out ecco qua questo è il mio punto iniziale vedete ci vede questo cerchiettino e questo invece il punto del ripetitore quindi io abito qui e questo è il ripetitore io clicco qua sul punto in cui si trova il ripetitore cioè nel monte secchietta che ho preso come riferimento ci clicco e verrà creata una retta ecco fatto questa è la retta che ha creata questo punto io aumento lo zoom e mi sposto nella mia abitazione mi sposto tenendo premuto il maestro del mouse poi mi sposto nella mia abitazione eccola qua ecco vedete io posso visualizzare la direzione in cui puntare la mia telecamera scusate la mia antenna che è questa vedete si vede facilmente chiaramente se questa se questo ripetitore non fosse possibile puntare questa l'antenna in questa parte delle volte magari ci può essere un che sono una montagna un altro edificio che nasconde chiaramente uno si può scegliere un altro ripetitore in questo caso magari scegliamo che so scegliamo un ripetitore della rai ripetitore di basciano per esempio copiamo copia anche in questo caso dobbiamo fare la stessa cosa abbiamo fatto prima cioè togliere la virgola e mettere il punto copio l'angitudine e longitudine copia a questo punto vado qua e vado su cancella misurazione poi però cd clicco sopra letto del mouse misura distanza e faccio la testa operazione che ho fatto prima qui incollo i nuovi le nuove latitudine e l'angitudine del nuovo ripetitore che cdl v vado sulla lente ecco qua l'ho trovato a questo punto però prima di visualizzare la distanza cioè ci posso cliccare subito sopra per misurare la distanza clicco sopra e vedete verrà creata una retta io adesso mi porto al centro la mia posizione iniziale cioè la mia casa aumento lo zoom e in questo caso vedete che la direzione dell'antenna è completamente diversa qui la si puntava in questo senso questa direzione adesso si punta questa direzione qua quindi può essere che delle volte può capitare questa situazione ora per utilizzare al meglio le antenne ci vuole come ho detto appunto un amplificatore d'antenna e un alimentatore che da posizionare nel televisore chiaramente non è detto che uno debba utilizzare una sola antenna può usare anche due antenne già negli amplificatori hanno due entrate quindi uno magari se vuole non riesce a vedere tutto con una sola antenna posizionata verso un certo ripetitore può usare due antenne posizionare una verso un ripetitore l'altra verso un altro ripetitore e poi prendere le uscite con il cavo quarsiale di queste due antenne e posizionarli negli ingressi dell'amplificatore che appunto si mette solitamente ancorato al tubo dell'antica e questo più o meno è quello che vi volevo dire su come puntare correttamente l'antenna del digitale terrestre come avete visto è piuttosto semplice si usa questo sito che è OTGTV in cui uno digita il proprio all'inizio della regione poi la provincia poi il comune trova i ripetitori compatibili con la nostra posizione si trovano le coordinate qui viene messo prima la longitudine poi la latitudine bisogna invertirle e sostituire la virgola con il punto per poi trovare il punto del ripetitore direttamente su Google Maps e quindi creare attraverso la misura a distanza una letta per appunto visualizzare correttamente la direzione in cui puntare l'antenna si possono naturalmente usare anche due antenne per prendere i segnali da due diversi ripetitori e questo è tutto alla prossima volta